Vendere alcuni beni comunali, ad esempio Villa Clemente e l'ex mattatoio, per poi investire i proventi su manutenzione del territorio e altre urgenze. E' questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi. Tra le idee ipotizzate c'è quella di cedere Villa Clemente. La struttura infatti, con il passare degli anni, sta cadendo a pezzi e soprattutto nella stagione estiva diventa rifugio per i senza tetto. E' nel giardino circostante il degrado evidente, con diverse proteste dei cittadini che abitano nelle zone limitrofe alla villa. Per la presenza di topi e serpenti, in realtà ci poteva essere una soluzione non certo nell'immediato, ma comunque concreta. Ovvero il recupero come spazio culturale con la costruzione al suo interno di un teatro, che Roseto, dopo la chiusura definitiva del cinema Odeon, ora manca. Ma anche la vendita dell'ex mattatoio per ricavarne 4 milioni di euro. E' l'obiettivo del sindaco Sabatino di Girolamo, che nei prossimi giorni discuterà con la maggioranza sul piano delle alienazioni per il 2019 da inserire nel bilancio. Attualmente l'ex mattatoio viene usato dal comune come rimessa per gli scuolabus e alcuni mezzi comunali, anche perché fino a poco tempo fa il bene era bloccato per una causa in corso. Non c'è però solo l'ex mattatoio e Villa Clemente tra i beni che il comune potrebbe vendere. Ci sono anche due ex scuole, quella di Contrada Giardino e del quartiere Borsacchio. Per esempio rientrano tra i beni che questa amministrazione potrebbe porre, anche se ci hanno provato alle passate amministrazioni senza risultati. Un altro bene appetibile è il mercato coperto al centro di Roseto, sul quale però ci potrebbero essere due possibilità. O una vendita diretta oppure più probabilmente un recupero del mercato attraverso un project financing di iniziativa pubblica. I soldi incassati quindi verrebbero investiti sul territorio con particolare attenzione verso l'elaborazione di un piano asfalti più complesso che tenga conto delle pessime condizioni di alcune strade, in modo particolare quelle periferiche, come ad esempio la strada di Coste Lanciano ridotta in alcuni tratti ai minimi termini con buche profonde anche oltre i 30 centimetri. Grazie a tutti.